Ciao a tutti, sono Olivia Iacolare, lavoro a CarrenTV e sono qui per parlarvi di 15 cose che bisognerebbe secondo me copiare da internet e incollare pari pari nella vita reale. Premetto che per me la vita reale e internet sono la stessa cosa perché o vivo o sto su internet quindi ho deciso di fare tutte e due le cose insieme. Questo perché voglio raccontarvi 15 piccole storie legate a 15 servizi online. Forse non va avanti la slide però perché non è numerata. Sì, ecco qua, perfetto. La prima è legata a Google. Diciamo che nella vita online è molto piacevole cercare da quando c'è Google nel senso che tutto è a disposizione di un click, due click e arrivi subito all'informazione che cerchi. Invece magari nella vita reale non è così e quindi bisognerebbe imparare a cercare con ottimismo bisognerebbe avere un pulsante tipo mi sento fortunato anche nella vita reale. Poi World of Warcraft perché io sono una grande videogiocatrice non gioco in particolare World of Warcraft però credo che l'avventura sia sempre dietro l'angolo quindi bisognerebbe applicare questa cosa anche nella vita reale. Mostrarci per ciò che siamo è l'insegnamento che può darci YouTube. Sì, è vero, tutti guardiamo i video dei gattini e via dicendo però dobbiamo ricordarci sempre che siamo noi il medium principale nella nostra vita e quindi mostrarci senza paura. È possibile anche sbarazzarsi delle cose inutili e delle cose legate al passato. Su internet si può fare, si mette tutto su eBay si ottengono dei feedback e la gente è anche contenta di apprezza anche il fatto che tu ti sei liberato di cose vecchie. Sto correndo un po' perché le slide sono partite a tradimento e Wikipedia invece è fantastica perché ci insegna che anche il nostro piccolo settore di competenza può essere importante e su Wikipedia questo ha senso perché ci sono pagine sulle cose più strane e impossibili e sarebbe bello se questo ci fosse anche nella vita reale. Voi conoscete davvero i vostri amici non quelli che avete su Facebook e che avete aggiunto perché vi hanno aggiunto loro ma li conoscete davvero nel senso che sapete cosa pensano di voi sapete cosa piace a loro? Io ho scoperto cosa pensano i miei amici e a cosa piace ai miei amici grazie a Facebook quindi credo che questo sia uno strumento che può essere molto più utile di quanto non si pensi. Poi c'era Google Wave, è passato rapidamente è la dimostrazione che a volte si possono fare delle cose senza senso e non bisogna perdirsene perché Google l'ha fatto e infatti nessuno gli ha detto niente. Twitter invece mi ha insegnato che la sintesi è il risultato dell'analisi perfetta ovvero la sintesi proviene appunto da uno studio, da una ricerca molto ferrea molto dura, molto decisa e qui mi sono persa perché stanno andando avanti troppo rapidamente. Jaiku invece è un servizio che copiava internet praticamente è una copia conforme di Twitter, scusatemi, non di internet e non ha avuto successo perché c'era già Twitter, perché fare anche Jaiku? Quindi cerchiamo nella nostra vita di non imitare nessuno. Invece Seasmic ci ha insegnato che si può avere il coraggio di cambiare di cambiare direzione nella propria vita. Seasmic nasceva come un servizio tipo Twitter però permetteva di condividere dei video molto brevi nessuno lo usava e un tizio l'ha rilevato e l'ha trasformato in un client per Twitter quindi ha avuto il coraggio di prendere una grande decisione, una grande scelta e ha avuto successo. Dig ci insegna che invece bisogna far sempre emergere il meglio nella vita il meglio di noi stessi in mezzo a tante cose bisogna sempre pusciare sul pulsantino che va su e mai su quello che va giù. MySpace invece è un insegnamento alimentare perché ci ha insegnato che bisogna conoscere lo spirito del proprio tempo per avere successo e purtroppo MySpace non si è adeguato a questa cosa. Kiva invece è il mio sito preferito perché ci insegna che si può fare sempre qualcosa di buono anche con 20 centesimi, con 20 dollari e in effetti è un sito di microcredito che uso spesso e mi permette di finanziare degli imprenditori nei paesi in via di sviluppo che poi mi restituiscono i soldi. Craigslist è il sito di annunci più famoso in America è bruttissimo, è inguardabile, non si guarda veramente orribile hanno detto che bisognava rifarlo, bisognava ridisegnarlo e i proprietari si sono ostinati l'hanno lasciato così non è mai stato web 2.0 ma va bene così perché funziona quindi semplicità è efficacia e questa è la parte più bella perché ci sono due cose che bisogna tenere sempre sotto chiave la stupidità e i soldi e Yahoo Answers è l'esempio che la stupidità dovrebbe stare tutta in un posto infatti non so se avete mai usato Yahoo Answers ma ci sono delle domande orribili cretine e delle risposte ancora peggiori quindi cerchiamo di tenere sempre queste due cose sotto chiave i soldi e la stupidità scusate se ho corso un po' però è saltata una slide ciao grazie Lipe Riletto 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 Grazie a tutti.